Le tombe sono vuote, non ci sono sepolture, non ci sono ossa, sono completamente vuote. Tutto mi aspettavo meno che trovare tombe vuote. Le tombe sono vuote, non ci sono sepolture, non ci sono ossa, sono completamente vuote. Una cosa incredibile da questo punto di vista, per cui le operazioni adesso si sono concluse, una tomba in questo momento è in fase di richiusura, l'altra è stata disposta all'ordine di restare aperta ancora per qualche ora. Sotto una tomba c'era una sorta di stanza, siamo scesi anche insieme al dottor Portera per andare a fare delle verifiche. Adesso dobbiamo fare ulteriori indagini, ulteriori chiarimenti. Il dato oggettivo è che non c'è nessun cadavere sepolto in nessuna delle due tombe. Siamo tutti quanti, siamo proprio tutti quanti rimasti e diciamo abbastanza meravigliati di questa cosa. La prima che è stata aperta è stato scavato uno spessore di circa 30 centimetri pensando che ci fosse la bara, invece c'è stata un'apertura, si è aperto un vuoto sotto, hanno aperto e sono entrati in una stanza di circa 4 metri per 3, con una ristrutturazione recente rispetto alla chiusura della parte superiore. Alla tomba a fianco, che era un sarcofago, quindi era più semplice, bastava alzare il coperchio, era attaccato semplicemente con un leggero collante e lì ci sarebbe dovuto stare la tomba dell'altra principessa e invece anche quell'altro sarcofago era completamente vuoto. Bisognerà ovviamente valutare in futuro delle carte, degli incartamenti, perché mi sembra strano, però ovviamente siamo in un'altra città, in un altro stato, ma a me sembra strano che non vi sia qualche documento che ci dica se c'è effettivamente un corpo all'interno di una sepoltura oppure è solamente una sepoltura per fare onori, per un ricordo nei confronti di una principessa. Ove effettivamente risultasse che questi sono solo dei monumenti funerari, a questo punto ci chiediamo perché arrivare fino a questo punto. Tutto mi aspettavo meno che trovare tombe vuote. Dopo 36 anni il Vaticano ammette che ci possa essere la possibilità di una responsabilità interna su quanto è accaduto con Emanuele, perché fino a una settimana fa loro hanno escluso categoricamente. Il fatto di adesso, di collaborare in maniera concreta e spero onesta quanto più possibile, vuol dire che anche loro possono avere qualche dubbio e ammettere questo, perché se dal momento che apri per verificare se Emanuele sta là dentro vuol dire che il dubbio ce l'hai anche tu. Pietro qualche giorno fa, ricordando Emanuele, ha detto che chi tace è complice. Lo pensiamo tutti quanti. Sono passati 36 anni, sono passate tante cose, sono cambiati governi, sono cambiati papi, è cambiato tutto. E ora finalmente di dare risposte a questa famiglia. Ed è vergognoso, e mi prendo la responsabilità di quello che dico, che dopo 36 anni, o per omertà, o per paura, o per utilità personale, chissà, perché c'è ancora chi è vivo e sa, non metta a disposizione degli inquirenti le proprie informazioni per dare finalmente giustizia ad Emanuela. Grazie.